Telenova Giornale Telenova Giornale Il padre, Salvatore, di 37 anni, la madre, Paola San Pietro, di 29, il figlio Iosef, di 8, sono morti sul colpo nello scontro frontale di due veicoli. Scaccianoce guidava una lancia Ypsilon diretta a Scoglitti. A due chilometri dall'ingresso della frazione balneare incontrata a Anguilla, la lancia si è scontrata con un veicolo che viaggiava in direzione opposta, una BMW, guidata da un 27enne di Vittoria. Alcanto al conducente c'era il vittoriese Valerio Di Petro, 24 anni, che è deceduto. I soccorritori intervenuti sul luogo del sinistro hanno assistito a una scena straziante, sangue dappertutto e gli zaini dei due bambini riversi sulla strada. La bambina è di 5 anni, gemente, ma per fortuna ancora viva. Il motore della lancia era completamente staccato dalla sua sede, mentre la BMW era capovolta. La bambina è ancora ignara della tragedia che l'ha colpita, ha riportato solo traumi lievi. I due mezzi sono posti sotto sequestro e il magistrato ha disposto le ispezioni cadaveriche. In queste ore nella zona di Niscemi sono presenti automezzi di portata eccezionale. Lo denuncia l'attivista NoMuos, Peppe Cannella. Dopo il dissequestro dei cantieri, sostiene Cannella, vogliono ultimare velocemente il montaggio delle paraboli militari americane e del MUOS. Il presidente della regione crogetta però tace sull'argomento e non rispetta ciò che prima aveva annunciato. Sul MUOS nessuna revoca delle autorizzazioni regionali è ancora avvenuta. E così, sottolinea Cannella, l'autogru telescopica autocarrata con a seguito un convoio di articolati eccezionali per il trasporto degli accessori delle parabole militari del MUOS, proverà ad entrare in queste ore a Niscemi per raggiungere la base americana ubicata dentro la sughereta. Ci sono tentativi di utilizzare ingressi secondari, secondo l'attivista, della base per evitare di attraversare le vie di Niscemi. Annunciato, tra l'altro, in serata nei paraggi del vicino Bosco di Santo Pietro, il transito di un articolato di dimensioni notevole. Serve dunque bloccare la strada dell'ingresso principale della base, incontrata a URMO PAP, sottolinea l'attivista, costruendo un blocco umano di disobbedienza. Il Consiglio Comunale di Niscemi bene ha fatto ieri a negare ogni autorizzazione di transito dei tirre. Il sindaco di Niscemi spero indossi la fascia tricolore e intervenga, auspica Peppe Cannella, vietando il transito dei convoi e della GRU anche con un'ordinanza e utilizzando la Polizia Municipale. Sono state arrestate due donne di Vittoria, entrambe residenti nella città Ipparina, Lorena Martinez, di 22 anni, e Angela Carvana, di 27, ritenute responsabili di una serie di furti con destrezza commessi a Vittoria negli esercizi commerciali in un arco temporale, compreso dal 12 giugno al 27 settembre scorso. Sono cinque in particolare furti contestati nell'ordinanza di misura cautelare che è stata emessa dalla giudice Federica Messina presso il Tribunale di Ragusa. Inoltre viene contestata alle due donne l'indebito utilizzo presso sportelli Bancomat di tessere asportate ai legittimi proprietari. L'indagine è scaturita a seguito di una serie di segnalazioni pervenute al commissariato di Vittoria che sono risultate successivamente fondate e veritiere. Secondo appunto tali segnalazioni, le due donne, agendo in concorso tra di loro, spesso con una passeggina e con una bimba a seguito, raggiungevano l'esercizio commerciale che prendevano di mira, che era stato già opportunamente individuato, all'interno del quale vi era sempre solo o una negoziante o la commessa di turno. A nuova volta all'interno, le due malviventi, fingendo di essere potenziali clienti, agivano distraendo dapprima l'attenzione della negoziante che veniva intrattenuta con generiche richieste di informazioni sulla merce posta. E poi, una volta avuta commissione dell'esatta composizione dei locali, procedevano ad aspertare tutto quello che volevano appunto rubare. Compiuto il furto, le due donne si allontanavano in fretta dell'esercizio commerciale, ancor prima che le ignare vittime si accorgessero del reato. Il pluri pregiudicato Gaetano Catani è stato arrestato ieri per detenzione di Mariana ai fini dello spaccio e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sono stati gli operatori della squadra volanti che stavano esercitando un servizio di controllo nel territorio, a notare il giovane in via Cesare Terranova, mentre questi, alla vista degli agenti, cambiava strava e cercava di allontanarsi dalla loro vista. I polistrotti hanno subito riconosciuto il pluri pregiudicato e lo hanno perquisito. Nella tasca pastoriare dei pantaloni è stato rinvenuto un coltello con lama annerita, particolare che avviene solo quando il coltello viene utilizzato per confezionare in dosi sostanze stupefacenti. È stato così deciso di estendere la perquisizione anche all'appartamento nel quale vive il Catania. Dopo un'accurata perquisizione, all'interno di un mobile del soggiorno, sono stati rinvenuti 24 grammi di marijuana, che equivalgono a circa 65 spinelli e un bilancino di precisione. Inoltre, gli agenti hanno trovato un triterb, quello che viene utilizzato da chi confeziona in dosi la sostanza prima della vendita. Un ucraino di 20 anni, Glibe Boltanski, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Ragusa perché trovato in possesso di 5 stecche di stupefacente. Il giovane era alla guida di uno scooter e con lui c'era un minorenne di Vittoria. Entrambi erano senza casco, mancanza che è stata notata dai poliziotti, che stavano eseguendo dei controlli proprio a comiso, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del traffico di stupefacenti nel territorio locale. Alla vista degli agenti, lo scooter ha cambiato bruscamente direzione, ma la manovra non è servita ad evitare il controllo della polizia, che addosso all'Ucraino ha poi trovato le 5 stecche con 15 grammi di marijuana. La perquisizione degli agenti è proseguita a casa del Boltanski, dove è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione e del materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Il giovane è agli arresti domiciliari. I giovani dell'Italia dei Valori sostengono gli studenti e i docenti alla giornata di mobilitazione in difesa della scuola pubblica, che si tiene domani, sabato 24 novembre, per riaffermare il principio costituzionale del diritto allo studio. Da anni l'Italia dei Valori scrive in una nota si sta battendo per respingere il pesantissimo attacco frontale sferrato contro la scuola pubblica, sia dal precedente che dall'attuale governo. Un attacco che ha portato, a partire dalla finanziaria del 2008, al taglio di circa 9 miliardi di euro e alla cancellazione di circa 150.000 posti di lavoro, forse di più, se calcoliamo gli effetti del blocco del turnover imposto alle ultime manovre e l'aumento dell'età pensionabile della riforma Fornero. Con i tagli del governo, sottolineano i giovani d'Italia dei Valori, si annientano le prospettive culturali e formative, che sono gli ingredienti base per la creazione e l'incentivazione delle qualità professionali e del contributo di risorse umane ed economiche di cui l'Italia non può fare a meno. La scuola pubblica e l'istruzione sono i pilastri fondanti di una società democratica, meritocratica e lungimirante.